Voglio provare a spiegarvi meglio le caratteristiche di albero del mistero perché una realtà come quella che ho creato a partire da settembre dell'anno scorso merita di ricevere degli approfondimenti progressivi che vi aiutino a capire quali sono i contenuti reali, concreti, belli, positivi, fruttuosi che possono aiutarvi a crescere come scrittrici e come scrittori perché vedete albero del mistero ha soprattutto una caratteristica fondamentale cioè quello di essere estremamente variegato e flessibile infatti albero del mistero non comprende soltanto dei corsi di scrittura a pagamento ma comprende innanzitutto i molteplici video che metto a disposizione su questo canale youtube poi comprende tutti i contenuti gratuiti che sono presenti non soltanto su questo canale youtube ma anche per esempio sul sito di albero del mistero così come anche sul mio sito personale fabriziovalenza.net non bisogna dimenticare che anche quello fa parte della realtà di albero del mistero però poi ci sono i workshop ci sono i webinar insomma tutti quegli elementi che concorrono a creare una grandissima realtà relativa alla scrittura e alla crescita personale per me la narrazione è strettamente intrecciata con la crescita personale e d'altra parte se tu cresci personalmente interiormente hai anche la possibilità di crescere ulteriormente nella scrittura e con albero del mistero io affronto sempre entrambi questi aspetti se vogliamo possiamo dirgli un aspetto di scrittura unito ad un aspetto di approfondimento interiore filosofico personale comunque andiamo per gradi perché oggi voglio mostrarvi quali sono le importanti novità di albero del mistero ma lo farò subito dopo la sigla ed eccoci qui allora vedete che ho suddiviso lo schermo in modo che ci sia una finestra nella quale è possibile visualizzare il sito di albero del mistero allora quella che vedete qui è la home quando voi entrate nella home di albero del mistero c'è ovviamente uno slider con delle immagini che scorrono che vi informano sulle novità del sito per esempio qui vedete segnalato il nuovo romanzo codice infranto però adesso non soffermiamoci in modo particolare su questo aspetto ma andiamo direttamente alla pagina dei servizi perché se voi cliccate anzi se spostate semplicemente il cursore sulla voce servizi vi viene fuori la tendina con i raggruppamenti principali dei servizi che io vi offro e c'è per esempio crea il tuo percorso che adesso vedremo subito avvia il motore della scrittura che sarà l'altro argomento su cui ci concentreremo e poi c'è il grande corso di scrittura di cui vi ho già parlato altre volte mistero della scrittura che si compone delle sue tre parti sogna immagina e scrivi e poi ci sono i mini corsi di scrittura che qui vedete elencati però noi oggi in questo video ci concentreremo in modo particolare su crea il tuo percorso e avvia il motore della scrittura che sono le due novità di cui voglio parlarvi affinché capiate la flessibilità estrema dei servizi che vi offro quindi clicchiamo su crea il tuo percorso clicchiamo fortissimo in modo che arrivi subito la pagina ed ecco qua allora scopri il percorso più adatto a te qui c'è innanzitutto un video introduttivo che voglio far andare in modo che possiate ascoltare che cosa dice poi eventualmente potete anche rivederlo cliccando direttamente su alberodelmistero.com sentite un po vorresti fare il corso il mistero della scrittura ma non sai da quale parte cominciare allora ho pensato ad uno strumento creato appositamente per te si tratta di quattro semplici domande rispondendo alle quali avrai la possibilità di ottenere un'indicazione per capire quale parte del corso il mistero della scrittura faccia proprio al tuo caso però non è finita qui perché ci sono anche altre possibilità se tu mi scrivi una mail e mi spieghi il tuo percorso ti presenti spiegandomi un pochino quali sono le tue intenzioni io posso creare un percorso pensato appositamente per te semplicemente selezionando delle singole lezioni che fanno parte del mistero della scrittura e quindi pagherai soltanto quelle lezioni se invece vuoi scrivermi una mail semplicemente per spiegarmi qual è stato il tuo percorso fino a oggi magari hai bisogno semplicemente di un suggerimento per togliere mandar via la nebbia che ti impedisce di vederci chiaramente ebbene fallo non esitare l'importante che tu mi scriva a info chiocciola albero del mistero punto com io sono qui apposta per darti un suggerimento oppure per creare il tuo percorso personalizzato ecco qui quindi si tratta del percorso personalizzato d'accordo allora io ho creato questo strumento sono quattro semplici domande attraverso le quali tu puoi capire qual è la parte del corso il mistero della scrittura che fa al caso tuo guardate come sono strutturate queste domande allora la prima qual è il tuo livello di esperienza nella scrittura con tre possibilità di risposta a sto appena iniziando e vorrei imparare le basi b ho già iniziato a scrivere e voglio sviluppare le mie idee e i miei personaggi ci sto lavorando a un testo e voglio migliorare la stesura e lo stile voi rispondete a quale di queste risposte è la più adeguata a voi e ve la segnate e così fate anche con le altre tre domande una cosa assolutamente semplice cosa ti interessa di più apprendere poi quanto sei disposto a investire nel tuo percorso di scrittura e infine qual è il tuo obiettivo principale come scrittore rispondendo a queste quattro semplici domande otterrete una maggioranza di risposte a b oppure c quale risposta hai dato maggiormente se otterrai una maggioranza di risposte a allora il mistero della scrittura sogna potrebbe essere il più adatto per te se otterrai una maggioranza di risposte b il mistero della scrittura immagina sembra essere il corso che fa per te se invece hai una maggioranza di c il mistero della scrittura scrivi è probabilmente il corso ideale per il tuo percorso di scrittura vedete ho usato il condizionale per quale motivo perché non è detto che l'indicazione del corso che io vi segnalo e che potete cliccare qui e raggiungerlo immediatamente sia esattamente preciso sui vostri bisogni però potete visualizzare innanzitutto che cosa propone quel singolo corso capire se effettivamente fa il caso al caso vostro e poi se avete domande basta scrivermi a info chiocciola albero del mistero punto com io sono pronto a rispondervi per chiarirvi ogni singolo dubbio vedete basta cliccare qui scrivimi una mail e crea il tuo corso personalizzato ma addirittura come vi dicevo già nel video se comunque non trovate un corso che sia precisamente ritagliato sulle vostre necessità voi potete comunque scrivermi una mail vi faccio vedere che cliccando qui sopra si apre una vedete la finestra della mail con la quale potete scrivermi per l'appunto un messaggio e spiegarmi qual è stato il vostro percorso personale come ho già fatto con altri con altri studenti del mistero della scrittura spiegarmi qual è stato il vostro percorso personale non negli anni spiegarmi anche di cosa sentite il bisogno e io posso crearvi un corso appositamente costruito su di voi utilizzando le lezioni già sviluppate per il mistero della scrittura cosa significa questo significa che io selezionerò delle semplici semplici lezioni tratte proprio dai sei moduli che compongono il grande il mistero della scrittura e le attiverò appositamente per voi con tutti gli esercizi di cui avrete bisogno eccetera eccetera inoltre c'è una caratteristica che io ho un approccio che di solito è fatto anche di una attenzione alla persona di un lavoro affiancato che cosa vuol dire vuol dire che io sono attento ai vostri bisogni e quindi cerco di portare in superficie qual è la vostra caratteristica narrativa qual è il vostro desiderio narrativo cerco di aiutarvi a svilupparlo e a dirrozzarlo quindi magari mettendo da parte aiutandovi a mettere da parte a liberare il vostro approccio la vostra mentalità da tutto ciò che vi impedisce di essere delle scrittrici o degli scrittori che possono ingranare effettivamente la quinta ma poi anche affiancandovi di continuo provate a chiedere a quelli che già hanno partecipato al mistero della scrittura io appositamente vi indico all'interno dei singoli corsi o comunque nelle lezioni che metterò a vostra disposizione degli esercizi con i quali poi vi chiedo anche di mandarmi i vostri elaborati e di volta in volta io vi rispondo vi aiuto a svilupparli al meglio magari prossimamente metterò anche delle testimonianze in chiaro in modo che possano effettivamente aiutarvi anche a capire quale tipo di supporto vi do oltretutto io ho un'esperienza personale in questo ambito ma anche legata proprio all'insegnamento in generale avendo io insegnato per quasi 20 anni sono con le antenne sempre pronte a captare tutti i vostri segnali tutte le vostre richieste addirittura magari anche a prevenire i vostri bisogni in modo tale da condurvi in modo adeguato sul vostro cammino insomma albero del mistero si rivela sempre di più come una realtà capace di farvi crescere in qualunque fase voi siate del della vostra esperienza di scrittura ma allora dicevo per l'appunto che posso attivarvi dei corsi specifici per voi delle lezioni specifiche eventualmente poi possiamo anche approfondire dei degli argomenti in maniera specifica l'importante è che però voi mi facciate sapere di che cosa avete bisogno quindi sfruttate questo strumento scrivete a info chiocciola albero del mistero punto com non vi preoccupate non abbiate timore perché spesso io vedo che c'è un timore nell'avvicinare nell'avvicinare gli editor per esempio agli stand delle case editrici oppure nell'avvicinare anche gli insegnanti di scrittura creativa allora non abbiate timore nel fare questo io sono qui appositamente per trasmettere per condividere con voi il mio sapere per condividere con voi tutto ciò che è necessario sapere per riuscire a far crescere a far crescere la vostra conoscenza della materia ma soprattutto a farvi crescere come come studenti però adesso voglio anche condividere con voi l'altro corso quello che vi indicavo qui no ai servizi cliccando su avvia il motore della scrittura questo ci potete arrivare cliccando qui sulla seconda voce della tendina di servizi oppure sempre in questa pagina scopri il percorso più adatto a te andando qui nel secondo bottone vedete avvia il motore della tua scrittura con lezioni selezionate dal mistero della scrittura e già questo vi introduce su che cosa sia questo corso che ho creato appositamente per tutti coloro che non vogliono spendere la cifra intera del corso ma vogliono una selezione delle principali lezioni adatte alla adatte alla crescita e comunque ad effettuare ad affrontare un percorso di conoscenza di approfondimento e per imparare le principali tecniche della scrittura senza per l'appunto dover sborsare tutta la cifra subito fin dall'inizio è un corso ve lo dico subito che costa 280 euro quindi costa meno dei 550 euro originari d'accordo ovviamente non contiene tutte le 33 ore e passa direzione del corso il mistero della scrittura ma ne contiene soltanto 13 ore 45 tra video e materiale didattico però in queste 13 ore ci sono tutti i principali elementi che possono condurvi nella stesura di un romanzo tutte le principali lezioni che vi danno che vi offrono quell'aiuto necessario a prendere in mano la vostra storia svilupparla dall'inizio alla fine proviamo a vedere infatti quali sono le lezioni che sono comprese all'interno del corso avvia il motore della scrittura eccole qua allora questi sono i titoli generali perché ho scritto che sono i titoli generali perché in realtà ogni lezione poi comprende diversi video al suo interno che affrontano diversi argomenti di questo titolo generale quindi la lezione 1 dall'idea al tema dal tema alla trama lezione 2 il personaggio attraverso la struttura tematica lezione 3 l'arco di sviluppo del personaggio lezione 4 sviluppare un'ottima scheda del personaggio lezione 5 costruzione di scene sequenze e atti lezione 6 il climax e la sua gestione lezione 7 lo sviluppo dei conflitti lezione 8 le stesure lezione 9 flashback e flash forward lezione 10 i punti di vista lezione 11 il tempo narrativo e il tempo del lettore lezione 12 come affrontare le critiche teoria e strumenti lezione 13 i manuali per la scrittura lezione 14 lo sviluppo della routine di scrittura e tra i materiali didattici inclusi all'interno di questo corso ci sono i seguenti lo schema di individuazione del tema del vostro romanzo della vostra storia poi l'uso dell'idea di controllo e la controidea che è uno strumento assolutamente efficace per continuare a tenere sempre d'occhio lo sviluppo della vostra storia poi la scheda tipo per la creazione del personaggio completa di tutto ciò che è necessario per sviluppare un'ottima scheda del personaggio dei personaggi poi domande utili alla creazione del personaggio quindi focus sulla costruzione di una scena elemento fondamentale no per la scrittura di una storia tabella per applicare il metodo contro le critiche questo è il mio il mio metodo per riuscire ad aiutarvi ad affrontare tutte le critiche sia positive che negative capire quali sono utili capire quali sono tossiche nocive e capire quali invece possono essere semplicemente ignorate perché inutili poi c'è una bibliografia per i manuali di scrittura con oltre 30 manuali di scrittura e infine la tabella per una routine possibile anche questo è un sistema assolutamente efficace che vi aiuta a costruire la vostra routine questi sono corsi in modo particolare la tabella per la routine possibile e la tabella per applicare il metodo contro le critiche sono appartengono a dei corsi a dei mini corsi che io ho venduto più e più volte che sono molto sono ritenuti molto molto efficaci per appunto nello nei loro scopi così come anche la scheda tipo per la creazione del personaggio appartiene ad un altro mini corso che serve per la creazione di schede del personaggio che è stato addirittura definito molto ghiotto per la ricchezza di contenuti che possiede quindi insomma proviamo a vedere un attimo anche il video che accompagna questa la presentazione di questo corso sei qui perché vuoi sapere qualche cosa di più di questo nuovo corso avvia il motore della scrittura si tratta della raccolta delle migliori e più importanti lezioni del grande corso il mistero della scrittura che è suddiviso come ben sai in tre parti sogna immagina e scrivi allora nel corso avvia il motore della scrittura io ho raccolto quelle lezioni che ritengo veramente fondamentali per avviare il processo di scrittura se hai fretta di imparare subito i fondamenti essenziali della scrittura perché magari hai già cominciato a scrivere la tua storia allora avvia il motore della scrittura e il corso che fa effettivamente per te ti spiego subito come strutturato innanzitutto per chi è davvero pensato il corso avvia il motore della scrittura il corso è pensato per chi vuole strutturare subito il proprio metodo di scrittura ecco e qui lo interrompo perché perché la finestra qui del video è troppo piccola ma vi faccio vedere direttamente appunto questi aspetti allora dicevamo appunto per chi è pensato avvia il motore della scrittura guardate qui ho posto ho situato quattro semplici domande che vi aiutano un attimo a capire quale l'ambito all'interno del quale può essere più che adatto per il tuo acquisto le domande sono queste il tuo tempo è limitato ma vuoi comunque dedicarti alla scrittura oppure quando inizi a scrivere ti accorgi di non avere un metodo concreto e solido puoi spendere una piccola cifra e vuoi conservare i privilegi del corso più ampio hai bisogno di far chiarezza su un processo di scrittura che possiedi solo in parte allora adesso provo a spiegarvi più nello specifico perché queste quattro domande il tuo tempo è limitato ma vuoi comunque dedicarti alla scrittura questa domanda risponde ad un'esigenza che è quella di provare a sviluppare la propria scrittura senza avere il tempo di seguire oltre 30 35 ore di corso e di fare tutti gli esercizi che quindi lo renderebbero un percorso estremamente diciamo approfondito ma anche molto lungo no se tu vuoi provare ad iniziare ad approcciarti alla scrittura seguendo un percorso più breve che per l'appunto corrisponde all'incirca 13 ore ma iniziare fin da subito fin dall'inizio no a mettere in pratica la tua scrittura seguendo le indicazioni più importanti relative allo sviluppo della storia allo sviluppo dei personaggi eccetera allora questo è il corso che effettivamente fa per te oppure quando inizi a scrivere ti accorgi di non avere un metodo concreto e solido in realtà affrontando le lezioni di avvia il motore della scrittura entri in possesso di uno schema mentale che ti aiuti ad affrontare la tua scrittura con metodo e con senso critico con solidità senza perderti in molteplici in molteplici rivoli di chi magari non sa esattamente come mettersi a scrivere o come condurre come sviluppare la sua storia inoltre con il mio aiuto con il mio affiancamento costante hai veramente la possibilità di di avviarti in maniera piuttosto celere sulla scrittura della tua storia del tuo romanzo poi c'è anche un altro aspetto che è fondamentale che magari non tutti possono permettersi 550 euro dell'intero corso il mistero della scrittura che però io ricordo si può acquistare anche soltanto nelle sue tre singole parti cioè tu puoi comprare soltanto una parte per esempio la parte sogna la parte immagina o la parte scrivi senza per forza l'obbligo di dover comprare le altre e quindi in quel caso già spenderesti di meno però se tu poi arrivi a comprarlo tutto spenderesti 550 euro allora se tu vuoi avviarti sulla scrittura senza fare tutte le lezioni gli oltre 100 video le oltre 100 lezioni che ci sono comprese nel corso maggiore ma vuoi soltanto fare parte delle lezioni principali e spendere di meno ecco che allora avvia il motore della scrittura fa sicuramente per te ma poi dice anche una frasetta questa domanda vuoi conservare i privilegi del corso più ampio che cosa significa questo una caratteristica questo è importante che ci capiamo bene una caratteristica del mistero della scrittura cioè il corpo il corso ampio e che ti permette di ti dà diritto ad una monetizzazione cioè ogni video che tu guardi ogni euro che tu spendi in realtà ti dà diritto ad uno sconto cosa significa significa che terminata tutta la parte di quel corso tu hai diritto ad uno sconto importante significativo che puoi utilizzare sull'acquisto della seconda parte per esempio oppure sull'acquisto della terza parte e via dicendo anche sugli altri corsi eventualmente questa cosa però non c'è se compri se compri avvia il mistero della scrittura cosa significa quindi che non perdi i privilegi del corso più ampio significa che in qualsiasi momento tu puoi passare da questo corso ristretto ai corsi più ampi in che modo c'è spiegato qui sopra attenzione non perderai nulla del tuo percorso dopo aver acquistato il corso avvia il motore della scrittura potrai acquistare le parti rimanenti degli altri corsi con l'aggiunta solo di una piccola cifra otterrai così tutte le lezioni e i vantaggi del corso il mistero della scrittura e quindi se dopo aver acquistato avvia il motore della scrittura vuoi anche anche completare il la sezione chiamata sogna basterà aggiungere 80 euro e così otterrai anche la monetizzazione di tutta questa prima parte oltre che le lezioni che rimangono per completare questa prima parte se poi vorrai avere anche le lezioni che compongono le altre lezioni che compongono la parte immagina basterà aggiungere soltanto 90 euro e allora ecco che otterrai la monetizzazione gli sconti e le altre lezioni e gli altri materiali esercizi quiz eccetera che compongono la parte immagina infine se vorrai usufruire anche delle lezioni e quindi degli approfondimenti ulteriori e della monetizzazione della parte chiamata scrivi potrai aggiungere soltanto 100 euro e quindi avrai diritto anche a questo alla fine se tu avrai aggiunto queste tre cifre 80 euro per la prima parte sogna 90 euro per la seconda parte immagina e 100 euro per la terza parte scrivi in realtà avrai speso esattamente quello che avresti speso comprando l'intero corso il mistero della scrittura fin dall'inizio e quindi avrai speso 550 euro avrai tutta la monetizzazione tutti i quiz tutti gli esercizi tutte le lezioni e tutte le possibilità oltretutto che ti offro di collaborare con me alla scrittura di racconti eccetera eccetera e quindi come dice qui non perderai nulla del tuo percorso non perderai nessun tipo di privilegio ma allora come si fa a comprare questo questo corso innanzitutto lo ripeto costa 280 euro ecco qua il prezzo vedete poi basta ci sono diverse modalità per comprare il corso puoi acquistarlo subito tramite paypal oppure tramite carta di credito e allora basta cliccare su questo primo tasto qua che vedete eccolo qui proviamo acquista subito con paypal o carta di credito ti rimanda alla pagina del sito sul quale si trova il in vendita il corso vedete avvia il motore della scrittura acquista 280 euro basta cliccare qui che andrete subito alla pagina da compilare per la registrazione allora basterà vedere vedete mettere i vostri dati di mail il nome il cognome selezionare un metodo di pagamento che può essere paypal per l'appunto come dicevamo oppure può essere una carta di credito che adesso qua ci mette un pochino a venire visualizzata i per i vostri dati ovviamente vi potete registrare anche tramite il vostro account apple tramite vostro account facebook google oppure linkedin d'accordo allora vedete qui viene fuori seleziono metodo di pagamento potete mettere la carta di credito con il circuito che preferite con tutti i dati che servono insomma lo sapete come funzionano queste cose la scadenza il cvc che è quel numerino che c'è dietro la carta di credito e il paese da cui provenite perché magari abitate da un'altra parte vivete in un'altra parte del mondo ma potete acquistarlo lo stesso assolutamente come se viveste in italia la stessa cosa vale per paypal d'accordo ecco qui c'è una breve descrizione il corso che ti fa entrare direttamente nel mondo della scrittura con lezioni mirate e approfondite tratte dal più ampio corso il mistero della scrittura si paga tutto in un'unica soluzione 280 euro però proviamo a tornare un attimo indietro perché c'è anche un'anteprima gratuita allora cliccando qua sopra poi entrerete ovviamente nel corso con le anteprime gratuite dovete però iscrivervi quindi basterà la mail nome cognome non dovete pagare nulla ma in questo caso avrete la possibilità di vedere le anteprime gratuite quali sono queste anteprime gratuite se voi andate giù nel course curriculum cioè nel nel corso del curriculum vedete che ci sono quattro tendite ad apertura che sono le quattro suddivisioni di questo corso le quattro sezioni diciamo che compongono il corso no l'introduzione il tema la trama i personaggi dal corso immagina la costruzione del testo stesure aspetti stilistici dal corso scrivi e strumenti utili affrontare le critiche far fruttare il tempo attingere ai manuali dal corso sogna cioè ci sono i riferimenti del grande corso dalle sezioni del quale sono tratte le lezioni di questo corso basta che clicchiate qui e voi vedete vedete tutte le lezioni che ci sono comprese qui avete l'approfondimento completo delle lezioni che comprende il corso con le anteprime gratuite qua dove c'è scritto anteprima gratuita come capire il tema della storia oppure cos'è il personaggio per esempio sono le due anteprime gratuite soltanto che potete vedere soltanto iscrivendovi non dovete pagare nulla basta che vi iscriviate e voi potete vedere queste anteprime gratuite della prima della seconda sezione tratte dal corso immagina oppure se chiudiamola così se rimpicciolisce e non andiamo chissà dove se poi cliccate sulla terza sezione costruzione del testo stesure aspetti stilistici dal corso scrivi ecco che potete vedere quali sono le lezioni di questo di questa diciamo seconda parte del corso il mistero della scrittura da cui è tratto sono tratte queste lezioni vedete ce ne sono una bella quantità è la stessa cosa ovviamente vale per l'ultima sezione dove c'è una un ulteriore anteprima gratuita le critiche ti arriveranno che puoi vedere però ripeto soltanto iscrivendoti gratuitamente quindi quello che io ti invito a fare ovviamente di scoprire questo corso non avere paura iscriviti a questo corso o meglio iscriviti a questo sito non dovrai pagare nulla non dovrai inserire codici di carte di credito di nulla dovrai inserire soltanto nome cognome mail e avrai la possibilità di vedere come è composto questo corso di vedere le anteprime gratuite io ti ricordo sono 280 euro 46 lezioni 13 ore di contenuti video però vi dicevo che c'è inoltre anche un altro aspetto cioè che puoi pagare non soltanto con io non so se si sia visto se si era visto vero in questo caso benissimo mi era venuto un piccolo dubbio perché cambiando pagina che magari non si fosse visto ma si è visto tutto benissimo dubbi che vengono a chi fa questi video così allora vi avevo fatto vedere no la possibilità di acquistare subito con paypal o con carta di credito ma avete la possibilità anche di pagare con il bonifico bancario per esempio acquista subito con bonifico bancario ecco qui il tasto allora proviamo io clicco qui sotto e vi rimanda ad una pagina dello stesso sito di albero del mistero dove ci sono contenuti i dati bancari allora per pagare con un bonifico vedi ecco qui per la tua praticità vedete puoi pagare i servizi di albero del mistero anche tramite bonifico bancario come si fa ricorda di inviare ricevuta del bonifico all'indirizzo info albero del mistero punto com affinché possiamo attivare il tuo servizio perché cosa succede succede spesso che magari il pagamento non arrivi subito la notifica del pagamento attraverso il bonifico bancario ma che eventualmente lo veda soltanto nel momento in cui ovviamente la banca mi segnala che mi è arrivato un bonifico che potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo ma io voglio subito attivarvi il corso e nel momento in cui voi mi mandate la ricevuta con il codice con il codice diciamo come si chiama il codice tr trm trf qualcosa del genere adesso non mi ricordo comunque il codice identificativo del bonifico che avete fatto ecco che io posso controllare se effettivamente è stato effettuato e così ve lo posso attivare subito poi devi ricordarti di inserire nella causale del bonifico al posto di xxx vedete qua in questa tabella c'è ci sono le indicazioni no con il destinatario le indicazioni che dovete mettere nel bonifico no il destinatario fabrizio valenza e il codice iban sul quale farlo e la causale acquisto xxx ecco al posto di xx devi mettere la tipologia di servizio che stai acquistando per esempio consulenza ex libris ma nel caso che interessa a noi per esempio corso attiva avvia il percorso della scrittura oppure mini corso crea la routine di scrittura oppure corso imds cioè mistero della scrittura immagine eccetera eccetera d'accordo ecco e quindi in questo modo poi vi attiverò questo corso avvia il motore della scrittura io inoltre vi invito nel momento in cui comprate una del uno dei miei servizi a lasciare sempre una recensione su trust pilot ce ne sono già alcune ma essendo dato da poco l'insieme dei servizi di albero del mistero ovviamente al momento ci sono poche recensioni ovviamente albero del mistero può crescere grazie a voi anche se dopo che avete acquistato uno dei servizi di albero del mistero inserite anche una recensione su trust pilot guardate questa è una cosa estremamente utile che aiuta effettivamente albero del mistero a crescere sempre di più e allora non mi rimane che ricordarvi che la possibilità di crescita dipende ovviamente da voi dalla diciamo dal dall'intenzione che ci mettete quindi quello che io vi invito a fare innanzitutto a iscrivervi al sito dove sono contenuti questi siti questi questi corsi di scrittura visionateli questo quello che vi ho indicato per avvia il motore della scrittura vale anche per il corso maggiore voi vi potete iscrivere gratuitamente al corso e vedere le anteprime di tutte di tutte le parti che compongono questi corsi d'accordo e questo vale anche per i mini corsi ovviamente io sono sempre disponibile per voi voi basta che mi iscriviate a info chiocciola albero del mistero punto com e sono pronto a rispondervi lo sanno bene tutti quelli che mi hanno scritto finora e che hanno acquistato i miei corsi oppure le mie consulenze quindi insomma non perdete tempo preparatevi organizzatevi per soddisfare il vostro desiderio la vostra curiosità provatevi in questa bellissimo percorso che è un percorso non soltanto per esaudire il vostro desiderio finalmente di scrivere una storia di scrivere un romanzo un racconto tra un po tra l'altro piccolo anticipo partirà anche il corso sulla scrittura dei racconti insomma è un percorso che in realtà vi permette anche di essere di considerarvi finalmente scrittori perché soltanto che si mette in discussione che si mette in gioco con la scrittura può essere definito uno scrittore quindi non perdete tempo fatelo subito inoltre vi invito a iscrivervi anche alla mailing list come si fa a iscriversi alla mailing list guardate basta andare su qualsiasi pagina del sito di albero del mistero e in fondo per esempio questa è la home in fondo vedete che qui ci sono le testimonianze in fondo trovate questo eccolo qua questo form nel quale semplicemente inserendo la mail inserendo il nome il cognome e il numero di cellulare perché così io possa contattarvi anche nel caso in cui le mail non arrivino e poi dando il vostro consenso cliccando quindi queste due caselline e cliccando forte su iscriviti voi vi iscriverete alla mailing list di albero del mistero con la quale avrete la possibilità di rimanere sempre informati sulle novità di albero del mistero e quindi avrete eventualmente il privilegio rispetto a quelli che non sono iscritti di partecipare a delle cose esclusive che io riservo soltanto a chi è iscritto ad albero del mistero per esempio webinar workshop e cose del genere ma poi otterrai subito per esempio gratuitamente l'ebook autocorrezione revisione efficaci che è un libretto che ti aiuta a revisionare per bene il tuo testo prima di darlo in pasto ai lettori agli editori agli agenti letterari un librettino che altrimenti dovresti pagare 2 euro se vuoi acquistarlo su amazon ma perché pagarlo iscriviti alla mailing list e vedrai che io te lo manderò nell'arco addirittura di un'ora potrai ottenerlo in formato mobi oppure in formato pdf come preferirai insomma non mi rimane che invitarti ancora una volta a scoprire tutto quello che ti propongo su albero del mistero punto com mi raccomando non mancare questa possibilità non mancare di crescita di crescere realizza il tuo sogno realizza il tuo desiderio di diventare una scrittrice o uno scrittore non avere paura scrivimi perché io sono qui apposta per aiutarti ciao a presto